Erano appena usciti di scuola e durante un giro con una moto da cross nel cuore della città di Sapri sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale. Una 14enne di Policastro è ricoverato in prognosi riservata a Napoli presso l'ospedale Cardarelli. L'amico di 19 anni di Celle di Bulgheria che era la guida del mezzo ha riportato alcune ferite. I sanitari del locale ospedale lo hanno sottoposto ad alcuni punti di sutura e poi è stato dimesso. Il sinistro si è consumato poco dopo le 13.30 in via Kennedy in prossimità di piazza San Giovanni. La moto avrebbe provato a superare una Peugeot grigia che viaggiava nella stessa direzione e che probabilmente stava svoltando ma lentamente. Nel sorpasso la moto sarebbe finita contro una fiancata dell'auto probabilmente dopo l'impatto con il muro di una palazzina. Ad avere la peggio è stato il minorenne. Gli è stato diagnosticato un trauma toracico addominale. È stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico dai sanitari dell'ospedale di Sapri e poi trasferito in agli ambulanza al Cardarelli per un'altra delicata operazione. Il fegato sarebbe gravemente compromesso ma anche i polmoni. Appena giunto a Napoli ha subito un'altra operazione che insieme a quella precedente è servita a bloccare ulteriormente l'emorragia interna. La prognosi è riservatissima ma si registrano dei lievi miglioramenti. Sconvolta la comunità di Policastro dove il minorenne vive insieme ai genitori e quella di Spani di cui è originario il padre, fratello del sindaco Franco Giudice, il conducente dell'auto e del posto e dall'incidente ne è uscito il leso. I carabinieri del comandante Marino guidati dal capitano Fedocci sono impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e ad accertare le eventuali responsabilità. In questo momento l'attenzione è rivolta alla salute del ragazzino. Lentamente dovrebbe riprendersi. grazie a tutti. 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 grazie a tutti.